salve a tutti ragazzi oggi nuovo video e nuovo volo sperimentale con il Mavic Air cioè tutte le volte che volo mi dico che figata che è guidare il Mavic dallo smartphone o addirittura dal tablet ma se si potesse guidare da un display ancora più grande quindi mi son detto perché non guidare il nostro Mavic con una televisione a 50 pollici quindi come vedete l'app DJI GO è pronta sulla tv a 50 pollici adesso preparo il Mavic e facciamo un volo guidando il Mavic con la tv a 50 pollici sopra casa mia quindi ragazzi prepariamo tutto e facciamo questo esperimento quindi ragazzi è tutto pronto prepariamo a fare un micro volo con il Mavic e l'applicazione DJI GO che come vedete è già pronta il Mavic sta già inquadrando il mio giardino e proveremo a volare qua sopra casa mia quindi vediamo se questo esperimento funziona è una cagata ok ragazzi pronti ragazzi è una figata pazzesca cioè guardate le immagini della televisione sono spettacolari ragazzi state vedendo è eccezionale è spettacolare vedere questa cosa che non serve a niente però è bellissima da vedere facciamo un giro roteando intorno a casa mia ragazzi è spettacolare cioè si vede da dio cioè guidare così sarebbe una figata allucinante che qua non posso volare chissà dove perché sono tutte case quindi sto solo sopra casa mia tagliamo un po' in altezza tanto sono sopra casa mia in questo momento ovviamente non posso andare chissà dove per evitare di creare casini ok però l'idea la dà cioè vedere tutte le informazioni nella nostra televisione e in queste dimensioni è spettacolare adesso ragazzi riatterriamo e tiriamo le conclusioni finali di questo esperimento boh curioso schifoso non lo so comunque tiriamo le conclusioni ok ragazzi adesso riatterriamo ragazzi come avete visto ho mancato il tabellone d'atterraggio perché comunque non lo stavo guardando visivamente non ho fatto return to home sono sceso un po' a spanne e l'ho mancato di 20 centimetri ok questa è andata un po storto però non fa niente adesso vado a ritirare il mavic e poi parliamo di come è stato questo effetto la tv a 50 pollici vedere il mali e la sua inquadratura e la sua app dentro la tv ok ragazzi il mavic è integro è un po pieno d'erba perché avendo sbagliato il punto d'atterraggio ho tagliato l'erba comunque adesso gli diamo una pulita ragazzi non so se questo video esperimento vi è piaciuto e scrivetemi se secondo voi sarebbe figo guidare un drone con un display di queste dimensioni abbiamo visto che si può fare ovviamente non sono potuto andare chissà dove perché essendo tutte case intorno a me diventa molto pericoloso o quindi ho volato appena sopra la mia quindi ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto condividete il video e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi